Finalmente una buona notizia anche sui telegiornali. Siamo felici di annunciare che la Pedemontana si può fare. La società Superstrada Pedemontana Veneta, come previsto infatti, ha perfezionato con successo l'emissione di un bond senior da 1 miliardo e 221 milioni a tasso variabile con scadenza 2048 e un bond subordinato da 350 milioni con termine 2027. Per un totale di un miliardo e mezzo che il mercato privato offre per coprire tutte le spese, dai costi di costruzione a quelli finanziari fino alle spese fiscali. Una vittoria del sistema Veneto.